Buongiorno, sono Gianluigi Raso specializzando in neurologia del campus biomedico. Oggi abbiamo assistito a due procedure di impianto. Per me è un'esperienza nuova, sicuramente molto formativa grazie anche alla didattica del professor Antonini, ma soprattutto nella pulizia e nella precisione intervento che ci ha permesso di capire bene i singoli step, capendo delle criticità, quindi un errore e soprattutto quale fosse la via più agevole, quindi per un impianto sicuro e preciso. Sicuramente il livello che abbiamo visto oggi è sicuramente un punto d'arrivo, quindi è qualcosa che ci può sfronare sicuramente e migliorare sempre di più nell'apprendimento della tecnica. Grazie a tutti!